Buongiorno E la cantina buia dove noi Espiravano piano E le due cose, le due due no Oh no, mi stai facendo paura Dove sei stata cosa hai fatto ormai Una donna, una donna Donna di B cosa vuol dire? Sono una donna ormai Ma quante baci a te non sei tu Sai per diventare quante sei Che importa tanto o me lo dirai Purtroppo Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie 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 a tutti Un abbraccio